In questo video ti faccio vedere come ho trattato i capelli di Valentina dopo aver fatto un lavoro di decolorazione abbastanza importante. L'obiettivo era quello di essere più bionda e più luminosa. Ho utilizzato tre prodotti, uno shampoo hydrate e i prodotti del kit repair. Ma partiamo dallo shampoo hydrate. Ho utilizzato una noce massaggiando molto bene dalla zona più vicina alla radice fino alle punte. Il secondo passaggio è stato quello di utilizzare l'olio ristrutturante fase 1. Ovviamente dopo aver risciacquato lo shampoo. Quest'olio è un olio che non appesantisce il capello, è studiato appositamente per un capello decolorato e va a idratarlo e a facilitare la pettinabilità. Dopodiché sono andato a utilizzare la maschera repair come sigillante dell'olio all'interno dei capelli. La maschera repair è a base di cheratina, sigillerà l'olio all'interno dei capelli senza appesantirlo e facilitando la sua pettinabilità. Ho utilizzato poi una piastra fredda a infrarossi per ridurre i tempi di posa e questo qua è il risultato finale. Per qualsiasi informazioni ti invito a visitare iloveblond.it